Integrazione, legalità, sviluppo. Questo è il titolo del convegno organizzato dalla Funzione Pubblica della CGL che ieri alla Camera di Commercio ha fatto il punto su Prato come incrocio di culture, laboratorio di accoglienza e officina di integrazione. Relatori il sindaco Matteo Biffoni, il procuratore capo Giuseppe Nicolosi, il sostituto Antonio Sangermano e la segretaria nazionale Funzione Pubblica CGL, Serena Sorrentino. Il faccia a faccia moderato dalla giornalista di Notizia di Prato e Toscana TV, Nadia Tarantino, ha fatto il punto sullo stato di salute della città quando si parla di immigrazione, senza tralasciare il ruolo della politica centrale che ha il grosso delle competenze sul tema, nella consapevolezza che meno integrazione c'è, più cresce l'illegalità e l'illegalità non produce sviluppo. I risultati dei controlli che vengono effettuati ancora non sono all'altezza delle aspettative che io capisco, è un percorso lungo, un percorso complicato, la speranza è che in questa sintonia entrino presto e nel numero più ampio possibile anche gli imprenditori, gli imprenditori in particolare di etnia cinese che in questo momento ancora non stanno rispondendo per le percentuali che io auspico e che credo che debbano diventare un tratto distintivo della nostra comunità. E nuove regole sono state chieste ancora una volta dal sostituto Antonio Sangermano. Ho parlato di espulsioni ma di integrazione che è il concetto prevalente rispetto al quale in maniera commisurata, proporzionale, vi deve essere un sistema di rigore per espellere dal territorio dello Stato chi non sa meritare, chi non sa vivere in maniera effettiva l'integrazione. Ma il baricentro del ragionamento non è l'espulsione, l'integrazione. Il procuratore Nicolosi ha invece ribadito l'emergenza nella quale operano gli uffici giudiziari sguarniti di mezzi e di risorse. Arriveranno sei nuovi giudici ma mancano i cancellieri e se mancano i cancellieri è un problema, ha detto. Una macchina giudiziaria che potrebbe viaggiare a gran velocità dando risposte efficaci e incisive all'illegalità invece va a scarto ridotto. Serena Sorrentino su questo ha ricordato il recente confronto tra il sindacato e il ministro Orlando che sul piatto della giustizia ha messo 10 milioni ma si dovrà capire a cosa nel concreto verranno destinati.